Una cena spettacolo a Subbiano e anche in questo caso si pensa alla musica, al buon mangiare ma anche alla solidarietà. Sì, la città della musica, la nostra associazione che intorno a noi sono 14 gruppi che suonano, orchestre e orchestrali. C'è un spettacolo, questa è la terza che facciamo presso la sede del prologo di Subbiano. Il 12 maggio alle 20 e le band che suoneranno sono i Tilti, l'Acustica, l'ID di Marzo, la Quarta Mano e l'Air Cover Band. È un momento di solidarietà anche nei confronti di Calcet perché il ricavato comunque sarà di Calcet e l'invito è di essere presenti perché la cucina è di buon livello, si balla, ci sarà tanta musica, la solidarietà quindi insomma è sicuramente una serata importante. C'è un spettacolo, saranno presenti delle band aretine? Sì, naturalmente le band aretine. A parte questa volta abbiamo una band nuova, sono gli Acustica, lo voglio precisare che nell'Acustica ci sarà un personaggio a livello insomma nazionale perché è il bassista dei Panda, un'orchestra che andava negli anni Ottanta alla grande. Comunque ecco l'appello che voglio fare di intervenire numerosi perché più incassiamo e più diamo al calcete, quello è importante per noi. Come ci si può prenotare? Ci si può prenotare come è scritto nel manifesto telefonandomi e mi raccomando perché più siamo più diamo il contributo al calcete ma anche la soddisfazione dei nostri ragazzi che si esibiscono e più gente c'è e più è soddisfacente. Sono tantissime ormai le iniziative che pensano al calcete, come verranno utilizzati questi buoni? Dunque intanto grazie alla Città della Musica perché ormai da tanto tempo diciamo ci sono vicini e questi fondi saranno destinati ormai come da tempo al servizio di cure domiciliari oncologiche, il servizio scudo che è veramente un servizio apprezzato e totalmente gratuito per chi lo riceve. Grazie a tutti.